Che roba! Ma che cos'è questo pesce? Non lo so questo pesce, ma è un gigantesco veramente Ma che grande, c'è una bicicletta sul fondo, la vedo? Mamma mia, c'è una bicicletta! C'è un ponte perché... ...c'è un bel bel... Mamma mia, c'è un bambino! Bambino? Vendi e poi vengono a casa! Vengono a casa, vengono? Vengono a casa? Vengono a casa? Vengono a casa da casa? Vengono a casa da casa?